Trappellano ancora nuove piccole ma importanti informazioni per il prossimo film Pokémon, scelgo te! Con le quali veniamo conoscenza di nuovi Pokémon leggendari che saranno presenti nel film e dei quali non sospettavamo minimamente. La Takara Tomy rilascerà nel mese di luglio un nuovo set di statuette dedicati ai Pokémon più rilevanti presenti nel lungometraggio. Tra i vari Pikachu con il cappello di Ash, Incineror, Oh-Oh e compagnia bella, notiamo la presenza del trio delle bestie leggendarie, Entei, Raikou e Suikun. Concorderete con noi che la loro presenza è alquanto inaspettata e non riusciamo ancora ad immaginare il loro impiego durante il film, se non come degli aiutanti di Oh-Oh, che magari tenteranno di proteggerlo dalla possibile minaccia di Necrozma, di cui abbiamo parlato in un nostro precedente video. Anche se ad oggi la sua apparizione nel film non è ancora stata confermata, quindi restiamo nel campo dell'ipotesi. E voi cosa ne pensate? Che ruolo avranno i tre Pokémon leggendari? Noi vi ricordiamo di lasciare un mi piace per supportarci, di iscrivervi se non volete perdere altre notizie del genere. Commentate, mi raccomando, condividete il video con i vostri amici e noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!